mi ha invitato ben volentieri, intanto prima di tutto vi ringrazio di cuore perché io so perché siete qui, lo so perché ci avete seguito nel periodo del processo tanto importante, con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta davvero a farci conoscere in tutto il mondo e questa è una conquista che è nostra, di casale e non potremmo dimenticarla mai anche perché abbiamo ancora del cammino da fare, tanto e faticoso quello che vi prego e vi chiedo proprio come una nonna, voi lo sapete, ve lo dico spesso tutti tranquilli, dimostrate alla volta l'intelligenza e la vostra pretesa di giustizia noi siamo nella ragione, tutti insieme, grandi e piccoli cittadini di casale siamo tutti dentro alla storia dell'amianto, facciamoci vedere che non siamo né prepotenti né violenti ma attendiamo solo giustizia, un bacio a ognuno di voi, grazie grazie